eccoci qua e questa sera facciamo un film 2019 se non sbaglio diamanti grezzi è un film io dico giusto una cosetta così poi ne discutiamo assieme è un film che io trovo volutamente irritante da tutti i punti di vista dal protagonista alla sceneggiatura al montaggio l'unica scena l'ho rivisto proprio in questi giorni l'unica scena che mi sembra veramente di apertura è proprio la scena di apertura quando fanno vedere quella quella cava in etiopia dove dove praticamente si raccolgono queste pietre poi tutto quanto il film è estremamente chiuso in cunicoli e questo è un altro aspetto forse che tende un po a renderlo irritante comunque lascio la parola a barbara e poi ne discutiamo ecco un po un po tutti quanti grazie marco sì il film è difficile da reggere ecco mettiamola così è la storia di award che è un rivenditore di gioielli nel quartiere dei diamanti a manattan un rivenditore ebreo ed è la sua storia alla sua corsa perché il film è proprio fatto di corsa come dice marco le scene aperte sono veramente pochissime le scene proprio girate all'aperto si possono contare sulle dita di una mano e il film è tutto chiuso infatti secondo me il concetto chiave del film sta proprio nel nel suo titolo diamanti grezzi nel film poi non si parla principalmente di diamanti ma si parla di un opale che appunto è stato estratto da una miniera in etiopia sempre da una comunità di ebrei africani ed è una pietra antichissima e il titolo poi in inglese è gemme non tagliate quindi gemme grezze in generale poi in italiano è stato tradotto come diamanti grezzi e il film sembra tutto girato all'interno di un guscio come 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 ci viene presentato l'opale che riesce ad ottenere haward e infatti il film si snodano ci sono delle dei piani sequenza dove lui entra nei cunicoli di questo quartiere dei diamanti di manattan dove i negozi sono tutti affastellati uno sull'altro ma non è solo una questione di scene anche i dialoghi sono sovrapposti ed è questo che rende secondo me il film particolarmente irritante e che invece ha fatto sì che io me ne innamorassi perché io amo questa 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 questione di realtà io sono una persona che vada moltissimo ai dialoghi e vedere i dialoghi trattati in questo modo quindi come dialoghi reali perché nella vita reale ci si ci si sovrappone no e mi ha fatto subito immedesimare in all'interno di questa storia anche empatizzare con un personaggio che è irritante perché appunto questo questo personaggio interpellato da adam sandler fa di tutto per complicarsi la vita quando è a un passo dalla risoluzione fa di tutto per complicarsi la vita quindi è un film proprio stratificato che stratifica gli ambienti e stratifiche dialoghi e ci dà proprio l'idea dell'opale l'opale è una pietra antica che si è stratificata su minerali e minerali che si sono si sono succeduti uno sull'altro e noi possiamo sbirciare attraverso questo questa questa gemma e infatti noi sbirciamo dentro 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 il corpo di edward con quella sequenza iniziale bellissima in cui non si capisce se stiamo dentro il corpo di edward o dentro la pietra antica e noi possiamo guardare guardiamo questo questo personaggio che come all'interno di una gemma si muove schizza come un atomo impazzito ma non ne può uscire non ne esce non ne esce se non nel finale un finale secondo me geniale di cui non dirò niente tranne il fatto che si sia l'apertura nel finale sia sia l'apertura sia l'apertura di di hour i personaggi sono strepitosi secondo me adan sandler ha fatto un'interpretazione magistrale io non l'ho visto in lingua originale ma da quello che ho letto ho visto che ha lavorato moltissimo anche sugli accenti e non solo il suo personaggio è curato ma tutti i personaggi con cui a che fare sono curati sono dei personaggi portati all'estremo tutti con delle caratteristiche fisiche molto riconoscibili no all'interno all'interno della sua vita le donne sono belle ma hanno un comunque un un'espressione sempre molto decisa no gli uomini talvolta sono invece dipinti come più grotteschi però sono tutti i personaggi che hanno una come dire una una ruvidità proprio tipica delle pietre grezze infatti secondo me il termine uncut gem si può riferire sia ciò che tratta a ward sia alle persone sembrano proprio delle persone che hanno una ruvidità anche le donne hanno tutte questa queste questa espressività questi lineamenti definiti anche dal trucco è perché c'è una bella una bella dose anche di trucco anche nello stesso nello stesso adam sender e sono tutti appunto come se fossero dei diamanti grezzi sono tutte persone che potenzialmente potrebbero fare qualcosa ma si fermano sempre in questo in questa in questo guscio che non che non le fa uscire ecco io non direi nient'altro aspetto i vostri interventi siete d'accordo con me vai vai dici qualcosa tu sì sono d'accordo sull'ultima cosa soprattutto cioè anche secondo me in realtà le come dire le le gemme non tagliate sono poi personaggi no non solo award come dici tu barbara credo che siano tutti un po bloccati nel loro nel loro personaggio ovviamente award e vittima di se stesso perché questo film è proprio la una un'immagine davvero molto realistica di quello che significa essere uno scommettitore seriale continuare indebitarsi fino al collo continuare a giocare perché è l'unica cosa che ti che ti mantiene in vita e allo stesso tempo ti rovina come tutte le le dipendenze che che diventano autodistruttive quindi proprio una spirale pazzesca lui deve sempre rilanciare deve sempre infilarsi sempre più nei guai no a tutti i costi e addirittura a questo questo cognato che è uno strozzino ed è terribile ma un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo di questo film che come diceva marco all'inizio anch'io ovviamente trovo irritante no perché ovviamente tutti i personaggi sono portati all'eccesso la storia portata all'eccesso tutti questi personaggi tutti arroccati in come dire in ruoli molto appunto che sembrano dei 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 gusci come se fossero intrappolati dentro se stessi e poi appunto c'è questa c'è questo aspetto che mi ha davvero colpito che è quello dello strozzinaggio cioè proprio il insomma la l'accusa più più tipica che che viene rivolta da 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 secoli verso gli ebrei quella di comunque di fare gli strozzini e qui abbiamo addirittura questo cognato appunto arno che è un personaggio davvero molto inquietante la scena della della cena di famiglia dove award si occupa appunto di di fare una sorta di rituale di dire appunto le le alcune frasi di rito eccetera e c'è arno che lo guarda in quel modo cioè c'è quel gioco di sguardi che è veramente agghiacciante perché è come se tu sapessi anche senza andare a sbirciare la trama che insomma succederà qualcosa prima o poi perché lo sguardo di arno non è molto benevolo nei confronti di award e poi sì un'altra cosa su cui sono molto d'accordo e la e questa parte diciamo delle delle donne di questo film perché abbiamo sia la la giovane amante di award che poi in realtà si si rivela essere davvero molto in gamba perché poi insomma lo lo aiuta a fare un'operazione abbastanza pericolosa complicata e la moglie anche lì capiamo che ci sono tante tante questioni familiari sicuramente legate anche a alla cultura alla tradizione legata alla religione ecco sono sono tutti aspetti che mi hanno molto colpito e adesso sarei curiosa di sapere che cosa ne pensa marco sì no la prendo appunto dando qualche spunto poi poi appunto ci si ragiona quello che mi sembra in questo film a me mi hanno diciamo così mi hanno colpito due punti da una parte questo circuito infinito che si innesca cioè soldi banco dei pegni soldi scommessa banco dei pegni soldi insomma è un circolo è un ciclo infinito che appunto come diceva giustamente barbara non si interrompe mai e probabilmente non si interromperebbe mai ecco nella vita di di adam sandler ma c'è un altro aspetto che mi viene da fare una citazione a una canzone di celentano diciamo così cioè che è veramente una giungla di città quella che quella che si dispiega in questo film dove vince chi urla di più vince chi riesce a far paura all'altro vince chi riesce a raggirare l'altro attraverso ricatti ed è tutta quanta una corsa come nella giungla il film dà proprio questo senso della frenesia è una corsa continua contro il tempo e così come ad un certo punto il tempo della partita di segna proprio no il tempo cioè il tempo della partita diventa il tempo del della dell'azione ma nello stesso tempo del panico che sale di di questo protagonista ed effettivamente ecco questo aspetto della giungla dove c'è questa aggressione costante ed è un'aggressione anche quello che ritorno un po al discorso che faceva barbara di queste voci che si sovrappongono costantemente c'è un'aggressione anche nei confronti dello spettatore eh è un parlato che è un è un è un parlato grido un uno spreche sangue no come un po direbbero i tedeschi un cantato parlato ecco questi sono poi i punti che che mi avevano che mi avevano che mi avevano colpito non so se 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 vado ad aggiungere qualcosa beh sì eh sono aggressivi è aggressivo tutto il film è aggressivo da un punto di vista acustico è aggressivo da un punto di vista ehm comportamentale dei personaggi è aggressivo proprio anche dal punto di vista estetico dei personaggi perché ci sono dei personaggi che proprio ti colpiscono no eh è un film ehm a mio parere bellissimo ehm per quanto tu possa essere stanco non ti addormenterai vedendo questo film piuttosto magari ti viene mal di stomaco perché vedi questo protagonista che 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 si scava la fossa la fossa da solo adesso per dirlo in in maniera molto semplice eh ed ha proprio anche l'idea di di quella che sia la la ludopatia cioè il fatto che non non si gioca per vincere ma si gioca per poter giocare ancora eh per poter scommettere di più sì 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 c'è questo circuito del gioco che è sicuramente il tratto principale cioè lui non riesce a stabilizzare una situazione anche quando gli va a favore anzi sembra che quando la situazione gli va a favore faccia di tutto per rovesciarla e rimettere di nuovo tutto quanto in discussione e e questo fa capire anche un po' la dannazione diciamo di 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 questo protagonista perché c'è secondo me un aspetto di di sicuramente di dipendenza di tutto questo ma eh lui è un po' dipinto come se fosse un dannato un maledetto d'altra parte c'è l'elemento magico in questo film quindi eh sì l'elemento magico tra l'altro secondo me dà anche un po' di di colore nel senso che c'è questa appunto questa potenza questa questa capacità di questa di questa pietra che infatti viene mh ambita da da questo giocatore che all'inizio si presenta al negozio di Howard facendo anche lui eh lo sborone no perché questo sembra quasi un film in cui ognuno gioca a fare lo sborone più dell'altro no ci sono tutte queste cose fatte di di oro e diamanti ad esempio questi furbi eh orribili tra l'altro l'emblema della pacchianeria fatti di oro diamanti che vengono scambiati per dei gremlins e poi appunto come diceva Barbara c'è questa estetica proprio eh ultra mega eccessiva il trucco i vestiti no? Tieni sta maglietta da migliaia di dollari tutto cioè gira tutto attorno ai soldi soldi che si ostentano soldi che non si hanno e quindi si va a finire proprio stesi sotto i debiti ma tutto sempre ehm comunque nel nel tentativo di appunto di di continuare sempre a fare la stessa vita quindi continuare ostentare continuare a giocare continuare a rischiare continuare a sfidare questo è proprio un film anche sulla sfida la sfida degli altri la sfida con se stessi poi il fatto che ci sia anche comunque il 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 gioco eh il gioco inteso anche come sport quindi da una parte abbiamo lui che scommette e e dall'altra abbiamo il giocatore che comunque è legato a un elemento ehm come dire non non razionale che lo può aiutare a vincere quindi anche questo molto secondo me è un aspetto molto interessante c'è questo aspetto anche appunto del gioco e che poi rimette in gioco costantemente anche le le relazioni i rapporti con la moglie con l'amante cioè di fondo a lui non manca niente ecco secondo me si può ragionare anche da questo punto di vista a lui non mancherebbe nulla cioè a quest'uomo di fondo non mancherebbe nulla e quindi effettivamente non fa nient'altro che che corrersi contro cioè è lui che che fa di tutto per per sabotarsi ecco per per mettere costantemente a repentaglio tutto quello che ha ehm cioè non è uno che che non c'ha niente non c'ha nessuno eh d'altra parte soprattutto la moglie sembra anche abbastanza forse ecco in questo caos del film sembra quella un po' più più tranquilla quindi non cioè non si capisce perché debba prendere ecco questa e quindi c'è questo aspetto della maledizione questo aspetto della maledizione vai 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 la pietra è macchiata di sangue sì esatto esatto e poi secondo me c'è anche un altro aggancio cioè la pietra e diciamo i labirinti porosi all'interno di questa pietra che vanno un po' in montaggio eh parallelo con i labirinti dell'intestino diciamo così del dell'organologia proprio di questo di questo personaggio quindi c'è anche questa relazione labirintica e che poi e poi il labirinto della città perché anche gli ambienti della lo spazio della città sembra fatto di corridoi di cunicoli no di tutti queste questi spazi chiusi eh è tutto quanto stretto è tutto quanto un po' un corridoio che si contorce su se stesso e anche questo circuito di gioco è un po' ecco è un labirinto è un è un labirinto anche fatto di punti ciechi perché non so se avete notato ma spesso Howard viene chiuso fuori dalla sua gioielleria dal campo dove si stanno allenando dentro un il cofano di un'auto quindi è un labirinto che spesso poi ti porta ad un angolo cieco non è e che quindi devi tornare indietro e devi riprovare un'altra strada è un personaggio terribile però è scritto talmente bene che comunque tu empatizzi con quest'uomo che fa di tutto per rendersi insopportabile per per correre contro se stesso eppure almeno io sono riuscita ad empatizzare col col personaggio io no lo dico chiaramente però 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 verso la fine ovviamente è impossibile non non provare pena cioè perché oltretutto questo secondo me è un film proprio spiazzante perché succede sempre qualcosa che non va come ti aspettavi quello che succede all'asta ad esempio vabbè non parliamo poi del finale che davvero incredibile e poi appunto ringrazio Barbara perché io non non amo Adam Sandler come come attore ma credo che qui abbia fatto una una grande interpretazione e si tratta appunto di un film spiazzante di un di un film girato davvero benissimo senza un attimo di tregua e mi stupisce che non abbia ricevuto qualche qualche candidatura qualche qualche premio importante cioè mi risulta che sia stato solo distribuito per netflix forse non è neanche uscito in dvd non mi sembra davvero davvero bizzarro è troppo scorretto per beccare qualcosa mi sa un po troppo scorretto no ma effettivamente no non so Barbara se volevi aggiungere qualcosa questa 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 riflessione no mi sembra che abbiamo toccato tutti i punti per cui ci si possa incuriosire di questo film so che era si si pensava una sua candidatura per gli oscar ma sappiamo che gli oscar hanno sempre una componente anche politica e quindi questo film è rimasto fuori sì anche perché fa vedere io adesso non lo so cioè fa vedere questo modo di parlare che non so se è tipico dei perché qui a new york se non sbaglio non so se è tipico di alcuni new yorki cioè questo modo di parlare urlando aggressivo proprio che c'è interessante pensare che ci sia effettivamente uno scambio a livello di affari di determinati giri in queste con queste tonalità è un parlare aggressivo leggendo ti ripeto qualche articolo ho letto proprio che adam sandler non che è comunque americano ha dovuto fare un lavoro sul modo di parlare proprio quello è il tipico modo di parlare del quartiere dei diamanti di new york quindi è ancora più specifico quindi è una cosa studiata cioè proprio appartiene effettivamente a no perché è molto caratteristico cioè molto caratteristico questo questo modo di parlare anche questo modo di parlare ecco costantemente stratificato cioè tu ti perdi perché si parlano sopra poi arriva sempre una telefonata cioè c'è sempre qualche cortocircuito mentre sta parlando arriva una telefonata o entra qualcuno e l'azione si interrompe e insomma e si prendono sempre direzioni un po particolari e ecco questo vai ma tu volevi volevi dire ancora qualcosina no ecco che anch'io ho notato questa questa tendenza al film partecipato cioè è un film dove davvero arriva gente si dicono cose si urlano cose succedono cose tante sono appunto anche inaspettate quindi è davvero un film che non ha noia che che viene sul filo fino all'ultimo e fin da guardare ripeto un film che avrebbe meritato sicuramente maggiore attenzione e qualche premio tra l'altro con una colonna sonora finale da non sta effetto nostalgia puro insomma riprendendo un po i temi che aveva affrontato la volta scorsa e niente quindi io direi che qualche qualche linea l'abbiamo data se se non c'è altro da aggiungere io vi ringrazio per la chiacchierata e ci risentiamo grazie a voi grazie